Benvenuto a Umberto Cairo, lei è amministratore delegato di Cloudtel, benvenuto al Green Vision Award. Grazie mille. Voi siete qui perché siete stati scelti nella rossa dei 31 candidati come azienda che merita un premio per la Green Vision. Che cos'è la Green Vision in un'azienda che si occupa prevalentemente di telecomunicazione? La Green Vision in un'azienda di telecomunicazione è una filosofia in tutta la struttura aziendale, è un qualcosa che parte da tutte le persone che lavorano, devono avere una mentalità di visione del futuro con naturalmente dei concetti green. I concetti green non sono semplicemente le piante ma sono soprattutto quelle di creare degli impianti che siano sostenibili, che possono dare ai nostri clienti. Noi parliamo di telecomunicazione, di informatica, comunicazione. Ci permettono a questi clienti di avere un'evoluzione in questa direzione ma con rispetto dei criteri ambientali, con rispetto dei criteri quindi di utilizzo di frequenze per esempio che siano non invasive e di utilizzo di avere cavi e strutture che siano orientati al Green ma soprattutto che abbiano anche le capacità di sostenere il futuro e quindi grandi quantità di dati, comunicazione eccetera eccetera. Perché spesso ci si dimentica, dottor Cairo, che tutta la digital information naviga su delle infrastrutture fisiche e quindi c'è bisogno di prendersi cura anche di questo? Assolutamente e soprattutto le infrastrutture fisiche di ieri e forse di oggi sono insufficienti a quelle di domani dove la gran quantità di dati, la gran quantità di comunicazione sta esplodendo in tutti i modi. Naturalmente lo vediamo con il cloud e con tutte le tecnologie che vanno in cloud, lo vediamo con lo smart working eccetera eccetera. Tutto questo evidente chiede moltissima quantità di dati ma dare alle aziende un potenziamento dell'infrastruttura dati sia privata che pubblica implica naturalmente il concetto di essere lungimiranti su quali sono gli effetti positivi nel mondo. Quindi cercare di dare delle infrastrutture che fra 10-20 anni siano meno invasive possibili. Questa è una sfida pazzesca. Grazie dottor Cairo e complimenti a Cloudtel. Grazie a voi.